panna e kira uscita tartufo estivo con la tutor jenny e la tutor sole qui troviamo un tartufo faccio canalizzare le cagnoline sul tartufo jenny e sole continuano a lavorare le cucciole sono sempre presenti sulle azioni gli atteggiamenti delle cucciole sono abbastanza diversi ce le diamo una kira molto più in avanti e una panna molto più riflessiva quindi continuiamo a lavorare in questa direzione aspettando che anche panne si esprima qui era si ritrova un pezzettino di tartufo sulla puga viene gratificata e da un grosso effetto positivo anche su di pan è stato un susseguirsi di forate e le cagnoline si sono comportate bene e per panne ci vorrà un po più di pazienza per quando con genere risposte la cagnolina l'importante è che sta serena e sta mettendo a fuoco il da farsi l'aiuto delle due cagnoline tutor e molto positivo c'è anche lorenzo con me che mi aiuta durante la gestione di tutte e quattro le cagnoline continuano attività qui vediamo chi era che si va a risincerare su una buca ritrova un ulteriore pezzo in maniera individuale tutte queste